Fabio Greco. Letture in chiaro. Antologia per il biegno secondo la metodologia Oxepisa e Invalsi. Letture in chiaro è un manuale operativo, sistematico e ordinato. L'antologia è divisa in parti dedicate ai testi letterari narrativi, ai testi non letterari e ai testi poetici e teatrali. Ciascuna di queste parti è introdotta da una sezione metodi, organizzata in lezioni chiare e sintetiche, con esercizi per un controllo immediato e verifiche finali per un primo confronto con i testi. Seguono le sezioni antologiche organizzate in percorsi tematici. Le attività di ogni brano sono organizzate secondo i tre processi individuati dall'Oxepisa per attivare la piena comprensione del testo, individuare informazioni, interpretare il testo, riflettere sulla forma e sul contenuto e valutare. Anche la tipologia dei quesiti risponde ai criteri indicati da Oxepisa e Invalsi, con domande a risposta chiusa semplice e multipla e domande a risposta aperta univoca. Ogni brano dell'antologia diventa così una palestra per allenarsi ai testi Invalsi. Alle attività di comprensione e interpretazione del testo si aggiungono esercizi di scrittura, attività per l'esposizione orale, grammatica e lessico. Letture in chiaro è uno strumento didattico essenziale e facile da utilizzare. Nei percorsi antologici un sottotitolo e un breve testo introduttivo chiariscono l'argomento del percorso e permettono di avviare immediatamente la lettura dei testi proposti. Ogni percorso è diviso in unità di apprendimento brevi centrate su un tema, un genere, un autore, un'opera. In coerenza con le indicazioni Oxepisa e Invalsi sono stati scelti testi brevi sui quali è possibile condurre una lettura e riflessione in classe durante una lezione. Brevi box visivamente evidenziati forniscono le informazioni essenziali sull'autore, il genere, il contesto. Agili guide alla lettura, centrate sugli obiettivi didattici delle unità di apprendimento, accompagnano lo studente alla piena comprensione del brano e allo svolgimento delle attività didattiche. Alla fine di ogni percorso la sintesi, con l'esposizione ordinata delle conoscenze apprese nel lavoro sui testi e una tabella di controllo delle competenze. Segue la verifica conclusiva per l'accertamento e il consolidamento delle conoscenze e competenze. Secondo le linee guida ministeriali, i temi di scienza, tecnologia, cittadinanza presentano testi non letterari, scientifici, tecnici e di attualità, dedicati a questioni di grande impatto con la contemporaneità. In chiusura di volume, la sezione Biblioteca presenta le trame dei romanzi antologizzati, i temi delle principali raccolte poetiche e le trame dei testi epici e teatrali. Letture in chiaro è anche un libro da guardare e sfogliare, che affianca all'educazione linguistica, l'educazione alla cultura visiva. Contenuti digitali integrativi per l'approfondimento, lo studio e la didattica interattiva in classe e a casa sono disponibili sul sito www.laterzalibro più internet.it. Tra i materiali integrativi, il libro digitale Grammatica facile, un corso completo di grammatica in ebook con didattica interattiva e autoverifica immediata. Tutti i contenuti digitali integrativi saranno trasferibili e integrabili nell'aula digitale, piattaforma multimediale La Terza, realizzata per sviluppare la didattica in classe e a casa. Un servizio esclusivo per chi ha scelto la qualità La Terza, nella scuola e per la scuola. Letture in chiaro è disponibile in due edizioni, in due volumi e in volume unico. Letture in chiaro, essenziale, operativa, appassionante. Competenze di lettura e scrittura a portata di pagina.